Grandi ascolti Rai per l'esclusiva in mondiale di volley, la Polonia si è confermata campione del mondo battendo il Brasile dopo le speranze della prima fase, delusione invece per la nazionale italiana. L'analisi del nostro commentatore tecnico Andrea Lucchetta La Polonia ha chiuso un mondiale pazzesco, ha costruito giorno dopo giorno, mattoncino alla volta, la capacità di essere solida dal primo punto all'ultimo, assolutamente recuperando Bartosz Kuret. Non è stato solamente lui, essendo il miglior giocatore di questo mondiale conclamato, ma il capitano, premiato come miglior schiacciatore, a cercare la possibilità di creare l'opportunità con la voglia di rappresentare la squadra, di battere contro le aspettative, formazione importantissima con una finale dove il Brasile ha cercato di tutto e di più e abdicato solamente grazie alla forza e alla dirompenza del muro e dell'attacco. Muro e attacco sono state quelle situazioni che non ha dato l'opportunità invece all'Italia di continuare a mantenere questo tipo di livello. Ci siamo trovati un livello internazionale elevatissimo, non siamo ancora pronti e strutturati per mantenere questo tipo di livello per una unica manifestazione. Abbiamo tempo a disposizione ma dobbiamo cambiare qualcosa e gli esempi sono ovviamente coloro che hanno vinto questo mondiale e a distanza di quattro anni con una formazione cambiata con l'innesto di giovani sono diventati i campioni del mondo per la seconda volta consecutiva. Onore ai vincitori, il campo ha dato il verdetto, la Polonia è campione del mondo. Vi ricordo il nostro sito www.raisport.rai.it e vi lascio alle immagini più belle di questo mondiale di volley e vi auguro buona serata. Grazie a tutti!